Salve a tutti ragazzi qui è Benvrat che vi parla Oggi sono tornato con un nuovo video Siamo su Mv3 come vedete E oggi abbiamo un video diverso dal solito Perché usciremo dalle mappe Usciremo da Resistance Proveremo a fare qualche slide fuori di Resistance Siamo in due a giocare Siamo io e Kix Che non vedete scritto il nome Perché è Match Player Però comunque è Kix Ok Siamo già saliti Mancano 9 minuti e 20 alla fine della partita Quindi rendetevi conto quanto manca E penso che Di solito andiamo anche per la Moab Cioè prendiamo la Moab E alla fine la tiriamo Però stavolta io direi che non la tiriamo Perché almeno abbiamo più tempo per fare i trick E possibilità comunque di fare qualche colpo decente Oddio 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 Mamma se lo hitavo questo tipo impazzivo Madonna Sono arrivato là alle piante Oddio questo è bello alto invece C'era qualcuno là Ho sbaglio Madonna Ora proveremo a uscire da Village Io non sono mai uscito da Village Quindi rendetevi conto Sto arrivando Sei te? Sei te? Aiuto Non sei te Oddio come hai fatto? Aiuto Veloce Non ho la classe Uccidimi Veloce Non riesco Mi sono Mi sono bloccato Cosa? Mi blocco No Arrivo Sono lì vicino Mi blocco dentro nella cassa Uccidimi 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 Sono qui Uccidimi Uccidimi Bravo bravo Eh c'è l'attack però No 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 Vaffanculo Eh ok ci sono Finalmente Ma cos'è sta roba? Oddio so per prendere ancora te Ma perché io volo alto e basta? Oddio l'ho mancato di un millimetro Oddio plus ti ho riusciato a te Spero che il video di oggi vi sia piaciuto Io vi ringrazio sempre dei like e dei commenti che mi lasciate E se volete che continui questa serie Magari facendolo anche su altre mappe Mi dovrò un po' allenare Però comunque ci posso provare Comunque ditemelo se vi piace comunque questa serie Vi saluto Vi ringrazio E ci vediamo al prossimo video Bella